Salve ragazzi, come state? Allora ragazzi, questa settimana sulla mia show Italian Breeze ho parlato dell'evento tragico che è successo questa settimana nel Colorado, il mio caro stato, quindi pensavo di poi condividere quello che ne ho detto sul mio canale Briller perché so che tante più persone lo vedranno così. Quindi guardate fino alla fine perché ci sono tanti punti interessanti che secondo me potrebbero interessare al popolo italiano, quindi ragazzi spero vi piaccia e buon ascolto. Peace! È una brutta notizia ragazzi, quindi probabilmente già l'avete sentita, ma in Colorado a Boulder, che è una città vicino a Denver, quindi quanto dista Boulder da Denver? Un'ora? Sì, saranno sì anche 30 minuti in macchina. Sì, 40 minuti così. C'è stata una sparatoria dentro un supermercato, sono morte tante persone, quasi tutte giovani, 20-50 anni, 60 al massimo. 10 persone hai detto? Non mi ricordo se erano 10, sono morte parecchie. Sì, sì, sono 10. Sono 10 persone. In un supermercato che è tra l'altro il King Super dove noi andavamo spesso, ma non a Boulder. Non quello sì, ma sempre quella marca. Brian, fammi fare l'italiana. Facciamo così. Noi di questa cosa ne abbiamo parlato tantissime volte, però non tutti gli italiani hanno la fortuna di conoscere e poter parlare con un americano. Quindi facciamo così. Io faccio l'italiana e tu mi rispondi. Non esitare di farmi qualsiasi domanda. Brian, ma con tutte queste sparatorie che ci avete nelle scuole, nei concerti, nei supermercati, ma perché le pistole circolano ancora e sono ancora illegali in America? Ciao italiana. Ciao. Allora, sul serio, cioè parlando seriamente, è una questione politica perché la sinistra, infatti ogni volta che una cosa del genere accade, la sinistra dice dobbiamo riformare, riformare le leggi delle pistole negli Stati Uniti, le armi devono essere controllate meglio e devi controllare il background delle persone meglio e le... i mitragliatrici leggere, non possono... non si possono vendere, non si possono trovare, dobbiamo... eccetera. La risposta dalla destra è sempre Le armi non sono da abiasimare, non diamo la colpa alle armi, diamo la colpa a queste persone pazze, togliere le armi non risolverà niente e quindi rimane in balancio tipo sinistra, destra, non viene fatto niente quindi di solito è così e questi momenti in cui c'è una sparatoria alzano la tensione e la consapevolezza di questi problemi e poi piano piano nei prossimi mesi però correggimi se sbaglio quando c'è una sparatoria del genere noi penseremmo tipo che le persone che sono contro le armi sono in grande maggioranza ma in realtà quello che succede in America è che ci sono quelli contro le armi che dicono vedete, dobbiamo togliere tutte le armi e quelli che sono pro armi che dicono è no però perché se la cassiera avesse avuto un'arma si sarebbe potuta difendere oppure se c'è una sparatoria nella scuola è no però perché se anche i professori avessero avuto un'arma ci sarebbe difesa quindi tutte e due le parti si arrabbiano diciamo è stranamente ma anche comprensibilmente quando si capisce il ragionamento quando succedono queste cose le vendite delle armi subito alzano tantissimo tipo da un giorno all'altro tipo 200% di vendite più alte perché adesso gente dice tipo siamo in un mondo assolutamente pessimo mi devo proteggere devo andare a prendermi un'arma così in quella situazione mi posso proteggere e tutelare pure le altre persone quindi tipo in questa settimana in questa settimana immagino che in Colorado tipo tante armi sono state vendute però sì la discussione va avanti così tipo la destra dice non è colpa delle armi sono le persone e gente dice addirittura tipo più armi vorrà dire più sicurezza perché possiamo ammazzare subito tipo se tutti ce l'avessero nessuno sarebbe il pazzo esatto quindi non sto dicendo senza dare il mio parere sto dicendo la discussione che va avanti per rispondere alla tua domanda quindi ho un'altra domanda quindi quanto è facile in America comprare un'arma? quali sono i parametri, i requisiti? io, Sonia, di 30 anni senza io non ho mai sparato nemmeno al poligono se fossi americana quanto sarebbe facile per me prendere un'arma? a quanto pare abbastanza facile relativamente rispetto agli altri paesi però non sono ben informato su questo quindi non potrei dare una risposta assolutamente soddisfacente anche perché non sono mai andato a prendere o informarmi su un'arma però sì è facile ci sono modi tipo diversi livelli di facilità tipo magari se vado ad uno show di pistole uno spettacolo li puoi comprare lì tipo direttamente da qualcuno invece puoi andare in certi negozi che vendono le armi in cui devi fare tipo devi aspettare due settimane o qualcosa e poi controllano la tua storia il tuo record e queste cose e se ha la fedina penale pulita? è quasi l'unico requisito? non lo so non lo so dovrei leggerne qualcosa e informare e scommetto in più che in ogni stato sono leggi diverse perché da stato a stato è regolato non penso sia federale come cosa poi è vero che quasi tutti gli americani hanno un'arma? qual è la percentuale della popolazione che possiede una pistola? non ho le statistiche non ho i numeri ho solo la mia esperienza che mi dice che decisamente non è 100% non è neanche 50% mettere il numero sui tipo 33-40% delle persone o comunque in una famiglia nella famiglia nella casa direi quindi se è una famiglia di marito, moglie, due bambini tipo una famiglia magari il 40% delle famiglie hanno almeno una pistola o un'arma mentre quindi non lo so mi dà fastidio a volte quando gente dice tipo tutti hanno le armi mentre io non l'ho mai posseduto tipo non mi sono mai voluto comprare un'arma o niente del genere non mi interessa e c'è tanta gente come me c'è anche tanta gente che direbbe tipo voglio avere armi mi voglio proteggere è figo avere un'arma mi piacciono le armi come hobby quindi li colleziono quindi c'è uno spettro di diversi punti di vista mentre in Italia questo spettro è molto più verso tipo non abbiamo bisogno di armi negli Stati Uniti è uno spettro più vasto diciamo tu diresti che la popolazione che vuole avere un'arma è generalmente una popolazione più grande più anziana cioè qual è la posizione dei giovani adesso in America? di nuovo posso solo indovinare non avendo i numeri addosso con me quindi direi che la differenza fondamentale è tipo urbana e rurale tipo più rurale più hanno voglia di armi è più urbano se magari non ne hai bisogno è anche direi più forse potrei sbagliare ma penserei più grande se più hanno le armi e tipo le nuove generazioni non le hanno però potrei pure sbagliarmi su quello poi è vero che in America puoi uscire con un'arma da fuoco addosso se è nascosta? puoi entrare anche in un luogo pubblico se l'arma non si non si vede? sì solo se hai questo proprio diritto di portare arma nascosta portare un'arma nascosta cioè devi fare un'applicazione tipo devi prendere un permesso per portare le armi nascoste può dar sì sì penso di sì nel senso se hai le armi e non hai tipo il permesso che hai ottenuto in qualche maniera in qualche modo non lo puoi fare quindi a volte pure se hai un'arma puoi venire arrestato per portare armi senza questo permesso il diritto tipo di portare un'arma nascosta quindi a volte gente tipo gente famosa a volte tipo atleti vengono arrestati perché avevano un'arma addosso senza il permesso però torno a ripetere che non sono cioè non sono l'esperto sulle armi non mi sono mai informato bene perché non ne avevo mai voglia o bisogno poi lo so che questo tu non puoi rispondere però la domanda che gli italiani agli italiani viene immediatamente è quando gli americani dicono te lo dico tanto già lo sai io voglio un'arma in casa perché mi voglio proteggere se sto dormendo ed entra un ladro almeno mi posso proteggere l'italiano immediatamente quasi sempre pensa ma se tu stai dormendo avresti la prontezza davvero di svegliarti capire che c'è un ladro andare a prendere la pistola che dovrebbe essere nascosta in un posto sicuro e in caso sparare avresti la freddezza la prontezza d'animo secondo me nel 90% dei casi è no cioè io probabilmente con quella pistola me la prenderebbero e mi ci ammazzerebbero sì è vero e magari in generale gli americani non se ne rendono conto magari qualcuno sì però il possesso delle armi non è non è proprio per quel motivo il motivo principale sarebbe mentalmente perché pensi se mai dovesse entrare qualcuno avrei la mia pistola la mia arma pronta pure se non ce l'hai pronto da sparare e non sei così veloce e mentalmente pronto tipo posso ammazzare avendo in mente tipo sarò al sicuro se mai dovesse capitare qualcosa è quello il bello di avere le armi in casa perché pensi di essere più sicuro quindi è una cosa mentale pensa pure che non lo so in quante cioè quante persone si trovano mai in tutta la vita nella situazione in cui qualcuno entra e per salvarsi si devono sparare uno su centimila forse ancora di più centomila cioè quindi è rarissimo però eppure tanta gente compra un'arma per sentirsi protetta io personalmente la cosa che non capisco è capisco i repubblicani che dicono che pensano a più pistole vuol dire meno pazzi però statisticamente parlando se l'America guardasse paesi in cui le armi non sono così popolari tipo tutti i paesi europei statisticamente parlando vedrebbero come ci sono molte meno sparatorie perché la disgrazia capita però ci sono molte meno sparatorie ci sono molti meno suicidi per arma da fuoco e poi parlando secondo me anche di quanti suicidi ci sono in generale in America ci sono più suicidi che in Europa in generale e secondo me anche perché è molto più facile commettere un suicidio suicidarsi con una pistola piuttosto che trovare il coraggio di saltare o fare altre cose quindi secondo me cioè statisticamente parlando dovrebbero essere lì i dati no? Perché decidono di ignorarli? Perché secondo me sempre per quello che dicevo prima sulla mentalità della destra o di persone a cui piacciono le armi e storicamente nell'America tipo le armi hanno una storia le radici dell'America ci sono le armi e tipo il dovere di proteggersi perché eravamo un popolo indipendente dagli inglesi quindi loro che venivano e non avevamo nessuno per proteggerci solo noi quindi portavamo le armi e infatti nella costituzione costituzione senza l'em costituzione la seconda ammendazione il secondo ammendamento ammendamento è il diritto di portare le armi e questa cosa che in inglesi chiama the right to bear arms viene sempre nominato in qualsiasi discussione tipo the second amendment the second amendment the second amendment mi dà il diritto di portare queste armi quindi è così fondamentale e profondamente inter crociato intertwined nelle nostre radici tessuto americane che è difficile togliere così pure con statistiche perché poi si possono pure presentare altre statistiche cioè è difficile presentare statistiche che oggettivamente danno la risposta tipo questo perché poi sì quello che dici è vero però poi magari dici beh guarda questa occasione ha sparato e ha salvato una persona quindi c'è sempre chi dice no e sì quindi è un casino infatti secondo me non è tanto a livello di statistiche cioè statisticamente parlando ok le armi da fuoco possono provocare tanti tanti problemi però è nella mentalità americana il dovere di proteggersi anche dallo stato perché magari uno pensa e se io se l'america dà via tutte le pistole cioè secondo me è anche questo no il chi è che ci protegge se ci dovesse essere uno stato pazzo che vuole fare quello che vuole di noi come facciamo la rivoluzione se non abbiamo le armi come per far capire ancora di più tipo quando covid è tutto iniziato c'era tipo un sacco di non si sa come finirà questa cosa non sappiamo quanto sarà escalation tipo al massimo e tutti morti tipo siamo zombie quindi pure all'inizio di covid le vendite delle armi sono alzate molto perché gente pensava che saremmo arrivati al punto in cui i supermercati erano chiusi non si può più trovare cibo e diventa tipo un tutti contro tutti e proprio un film degli zombie esatto e io quando sentivo gente che diceva questo facevo tipo oh ma non arriviamo a quel punto beh in realtà a livello di crimini anche in Italia c'è stato un po' di tensione perché ovviamente tutta quella parte della popolazione che ormai non può lavorare da un anno ma come tira avanti quindi cioè non è che giustifico però effettivamente anche in Italia sai che differenza ho notato? in America siamo tutti andati a prendere armi in Italia siamo tutti andati a prendere farina quindi non si poteva più trovare farina in America era le armi e anche la carta igienica quindi siamo proprio diversi voi avete il bidet non ne avete bisogno ma come guarda che prima del bidet si usa la carta igienica se qualcuno e ancora si usa immagino non è che siete dipendenti soltanto sul bidet no perché ho notato che gli stranieri non sanno come usare il bidet spesso e mi chiedono tipo ma vai direttamente al bidet no beh pensa che io se devo usare il bidet a che età sono stato insegnato come usarlo a che età mi è stato insegnato a che età mi è stato insegnato mai quindi la prima volta che l'ho usato era a 19 anni e dovevo proprio indovinare ma non lo potei cercare su google si ma non ero così cosciente in quel momento tipo come usare il bidet e poi guardi un video di un maschio che dice ciao ragazzi bentornati sul mio canale allora oggi facciamo come usare il bidet ok comunque per chiudere il discorso io non so se ti va ma tu ti vuoi esprimere su qual è il tuo parere riguardo le armi yes il mio parere sulle armi è meno armi ci sono meno non lo so se dire omicidi o suicidi o sparatorie ci sono ma queste cose secondo me meno armi ci sono meno di quelle cose ci sono perché a volte spesso sono incidenti pure tipo se oh l'arma con me nascosta oppure il diritto se sono una persona un po' più impulsiva e sto passando una brutta giornata e qualcuno mi prende per le spalle quando stiamo camminando se sono incazzato posso fare tipo mentre in quella stessa situazione in un altro paese senza le armi magari darei un pugno in faccia ma almeno quella persona vive quindi capita spesso che un tipo alzamento di rabbia porta qualcuno a uccidere un'altra persona soltanto perché la facilità che c'è nell'uccidere è così cioè se hai un coltello sai quanta più rabbia serve per fare tipo ripetutamente serve molto più coraggio per affondare una lama dentro la carne di una persona secondo me che poi in Italia ci sono gli omicidi e ci sono sempre tutti questi omicidi passionali quindi il modo per uccidere si fa però effettivamente secondo me è molto più facile uccidere da distanza facendo piuttosto che pensa pure per suicidi tipo se togli l'arma è molto più difficile suicidarsi e sparatorie certamente ovviamente con un coltello non si può fare una coltellatoria oddio in Giappone sono quasi comuni sì sì però uccidi meno persone con la sparatoria è molto più difficile e non sono per niente appunto d'accordo con chi dice tipo se avessi avuto un'arma in quella occasione avrei salvato tutti perché non penso in tutte le sparatorie che vediamo quante sono state fermate e bloccate perché un eroe aveva l'arma nel momento giusto e ha salvato la vita di 20 persone finisce sempre o la persona si ammazza o un poliziotto c'è anche in questo caso a Boulder adesso una persona che ha un training che sa come usare un'arma che ha i nervi saldi durante un'operazione del genere perché secondo me una persona normale entra nel panico ma è normale che ci fa con una pistola esatto però posso dire che è solo il mio parere e anche che non penso che il mio parere cambierà come sono le cose negli Stati Uniti per quella cosa politica che dicevo all'inizio quindi solo il tempo ci dirà quello che succederà negli Stati Uniti anche perché cambiare è tosto nel senso pensate se adesso abolissero tutte le armi in America per un bel po' di anni ci sarebbe una situazione di squilibrio dove in America ci sono tantissime armi e sono abbastanza facilmente reperibili ma sono reperibili per quella parte della popolazione che tanto buona non è perché se è illegale la parte della popolazione che segue le regole invece non ce le avrebbe più le armi quindi per un bel periodo ci sarebbe un bello squilibrio che un po' mette paura e se abolissero le armi ci sarebbe un nuovo mercato in nero c'è anche in Italia c'è in Italia il mercato nero delle armi c'è penso un po' in tutti i paesi però penso che sarebbe comunque secondo me sarebbero comunque diminuite tanto e magari anche quindi suicidi bla 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 sarebbero diminuite è il mio parere quindi tutto qua non lo so sono contenta perché ci tengo a dirlo che anche io sono contro le armi e probabilmente non cambierà la situazione però una piccola voce poi si sommano le voci il mio second amendment non c'è gente tipo più estrema che dice tipo non prenderete mai le armi da me e con quell'accento americano no Grazie.